Santa Lucia il giorno più corto che ci sia un proverbio che conosciamo tutti ma che riflette un'antica tradizione in cui la santa veniva venerata durante il solstizio d'inverno nella tradizione veneta non era babbo natale a portare i regali ai bambini buoni ma san nicolò la befana oppure santa lucia ingroppa al suo asinello era usanza infatti che la notte di santa lucia bambini e adulti lasciassero latte e carote fuori dall'uscio di casa affinché l'animale si rifocillasse durante il viaggio una peculiare usanza veronese è la preparazione dei puoti che vuol dire pupazzi biscotti a forma di bambini una leggenda racconta di una notte di neve quando una donna misteriosa bussò alla porta di una famiglia povera nonostante la loro situazione la famiglia accolse generosamente la donna che decise di svelare la ricetta dei puoti in modo magico gli ingredienti limitati della casa si moltiplicarono riempiendo l'ambiente di calore e delizioso profumo la donna scomparve ma il giorno dopo la famiglia trovò tanti puoti sufficienti a sfamare un intero villaggio la storia celebra la generosità e la magia della condivisione trasformando la povertà in abbondanza e ricordandoci sempre che è bello rinnovarsi ma senza mai dimenticare le nostre tradizioni grazie a tutti grazie a tutti